e carissimi amici carissime amiche salve a tutti benvenuti sul canale buona settimana dobbiamo dire qualcosa sul caso di Pierina Paganelli che veramente mi state seguendo con un affetto grandissimo e fate bene io vi ringrazio perché voi sapete che su questo canale troverete sempre la serietà e senza falsa intenzione insomma e soprattutto senza fazioni io dico quello che secondo me può essere la verità quella che è una mia idea ma senza mai sposare per partito preso le posizioni di uno o le posizioni di un altro mai quindi il dato essenziale adesso è che si è in attesa di sentire soprattutto Manuela, Loris e la figlia di Manuela questi saranno sarà l'interrogatorio fiume più importante di questa storia più essenziale di questa storia però prima di ciò dovranno essere sentiti alcuni testimoni altri testimoni considerati così di ordine secondario ma tanto secondario no perché ad esempio ci sta quella signora che testimoniò sempre non uno forse due che testimoniarono come a parte la telecamera delle 19.30 che inquadrò che ha inquadrato insomma Luis camminare così ma a quell'ora lì alle 19.30 cosa succede che alle 19.30 del 3 di ottobre c'era giù giù al condominio c'erano Luis sembra si dica con Manuela e anche con quell'amico di colore ora questa cosa è della massima importanza perché bisogna vedere se è vera se è vera nei suoi componenti ma ma anche sicuramente è vero è vero che Luis è sceso questo fatto qua negli ultimi tempi sembra quasi che venga un po' sottaciuto negato perché la stessa Valeria quando ha ricostruito i movimenti di quella sera invece di parlare e di dire è sceso giù verso quell'ora no dice dopo essere stato a casa di Manuela e poi è venuto dentro abbiamo cenato alle 20 niente di più falso perché prima lui è sceso giù tanto è vero che è stato detto tante volte in tv questa versione cioè che lui scende ufficialmente in garage per prendere il cibo per gatti quindi poi magari sta 10 minuti 15 minuti non si sa però voglio dire il fatto di collocare collocare ufficialmente Luis giù è un dato di fatto quindi quindi è il momento quindi anche in cui Luis viene visto camminare bene ebbe già di sentito poi anche anche diciamo sicuramente quell'altro inquilino quell'altro condomino che sentì quella sera un alterco fra donne ricordate disse che prima aveva sentito un alterco fra donne poi poi a distanza di tempo poi quelle gride eccetera quindi se noi riconduciamo questo alterco fra donne alle 19 e 30 potrebbe perciò bisogna verificare queste cose potrebbe essere che quello più o meno era l'orario in cui usciva Pierina potrebbero essersi incontrati giù perché la riunione a testimoni di Giove inizia intorno alle 20 Pierina insomma intorno alle 19 e 30 minuto più minuto meno esce potrebbero essersi incontrati lì ed aver avuto un alterco ancora una volta e con uno scambio di accusa anche perché non dimentichiamoci che il giorno successivo doveva andare Emanuela proprio dai testimoni di Giove al consiglio degli anziani per una sorta di processo per essere giudicati insomma non è una cosa improbabile quindi bisogna mettere a posto questi tasselli risentendo queste persone che anche in tv io ricordo delle interviste che hanno dichiarato questo e quindi lo devono penso certificare e ufficializzare asset davanti degli inquirenti quindi tutto ciò perché perché è importante sentire questi testimoni perché sta prendendo corpo un movente che è ben più grave è ben più grave rispetto a quello che si diceva perché all'inizio ricordate si diceva no una semplice amicizia una simpatia poi sono amanti va bene erano amanti però la cosa non sembra nemmeno così lineare e adesso proverò a spiegarvelo questo fatto che che non è che il movente può essere per il rapporto diamante fra Emanuele e Luis e basta vi potrebbe essere qualcosa di più complicato perché perché come ha fatto pure notare l'amico Luca Turla che saluto affettuosamente sul suo canale e può darsi parliamo un'ipotesi che Pierina avesse scoperto di più ci fosse altro perché lo si evince a livello logico diciamo da quell'audio che è andato pure in onda pure a quarto grado quell'audio in cui Valeria dice cose molto forti a Manuela e che praticamente giunge quest'audio in un momento successivo al quale gli inquirenti avevano fatto rendere conto Valeria dell'esistenza di questo rapporto quindi Valeria aveva già conosciuto tutto il meccanismo del rapporto tra lui e San Manuela quindi questo messaggio che arriva era un messaggio che sorprende perché arriva successivamente al fatto che è venuto fuori che loro erano amanti e quindi automaticamente l'aveva saputo Valeria l'avevano saputo tutti i social e naturalmente lo aveva saputo anche Giuliano l'aveva saputo anche gli altri fratelli e sorella cioè l'avevano saputo un po' tutti quindi cosa significa questo che quando Valeria dice dopo che è uscito fuori tutta questa storia Valeria fa un audio a Manuela e dice vedi di trovare dieci minuti per venire da me perché dobbiamo chiarire certe cose e come trovavi tempo per andare con lui eccetera eccetera devi trovare il tempo di venire da me perché altrimenti io certe cose poi le vado a dire magari alla stampa vado a dire magari a una certa persona si intuisce che può essere che può essere il che può essere Giuliano e e allora cosa cosa ragioniamoci sopra non può riferirsi al tradimento al fatto che lei aveva Luis come amante perché perché è una cosa già saputa capite cioè parliamoci chiaro questo audio che Valeria fa a Manuela è un audio particolare dice se tu non vieni da me guarda mi costringe che io magari vado in tv vado 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 alla stampa vado da Giuliano e vado a dire certe cose non poteva dire ciò che già si sapeva cosa andava a dire guarda che non so Giuliano che tua moglie aveva mio marito come amante ma già era uscita la notizia era uscita quindi ci deve essere qualcosa relativa sempre al loro rapporto ma diciamo di ordine più complicato in cui secondo me c'era qualcosa di di poco chiaro ecco quindi aspetti inesplorati li vogliamo dire così ciò ciò si evince come dire dalla dinamica di quanto detto e quindi qualcosa che assolutamente non si doveva sapere ora è ovvio che gli inquirenti stanno più avanti di noi per cui se c'è qualcos'altro di più complicato nel rapporto fra Luis e Manuela gli inquirenti ci sono arrivati forse non ci siamo arrivati noi ma forse gli inquirenti sanno di più e allora cosa significa tutto ciò tutto ciò significa che il movente eventualmente che avrebbe avuto Luis e non solo lui ma Luis che oggi è indagato non è semplicemente quello di dire ah vabbè magari aveva scoperto che ero un amante e allora io l'ho uccisa perché altrimenti si veniva a sapere con mia moglie eccetera quindi per sempre troppo poco effettivamente ma evidentemente Pierina doveva essere eliminata e doveva essere eliminata quella sera perché magari aveva saputo certi segreti aveva saputo qualcosa forse lei aspettava che giungesse a casa Giuliano e lei era il detonatore diciamo così di una sorta di bomba atomica in quella famiglia in quel condominio quindi sapete che Pierina in quel momento siamo agli inizi di ottobre lei poteva testimoniare cose importantissime e da tutti i punti di vista cioè sia dal punto di vista religioso per far allontanare Emanuele in una sorta di 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 segregazione quasi una sorta di appartai chiamiamola così e avviare poi le pratiche del divorzio convincendo facilmente il figlio Giuliano sarebbe stata la rovina economica e la rovina economica per sicuramente per una separazione di addebili con colpa perché forse ecco ci poteva stare nell'ambito di questa relazione qualcosa di più segreto di più complicato non lo so poi ci stava un altro detonatore per il fatto che Emanuele addirittura perdeva tutto e perdeva anche l'amica e perdeva poi sicuramente anche l'amante in questo in questo boomerang che che stava per per partire quindi Emanuele dal suo punto di vista arrivato a quella data aveva tutte queste minacce addosso no di tutti i tipi religioso divorzi economico amicale del damante ed era ed era sicuramente disperata dal suo punto di vista io credo che effettivamente fosse molto turbata molto disperata e e con chi 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 la poteva aiutare ecco lei piangeva sulle spalle di chi piangeva anche sulle spalle di Valeria come come amica tanto è vero che Valeria non sapendo ancora niente diceva ma ne parlava male anche del marito ma tu a che aspetti così perché li trattano male no ma che chi si pensa di essere tua suocera se tua suocera era una buona magari il marito non se ne andava cioè le parlava un po così dalla sua parte diciamo dalla sua parte però lei Emanuele andava a piangere anche dal fratello Loris che sappiamo che vive in una maniera proprio simbiotica e quindi il dolore della sorella era il suo dolore e poi piangeva anche con con Luis sicuramente con con l'amante ed era un rapporto così solito che noi abbiamo visto sì che si vedevano anche dopo la morte di di Pierina figuratevi quindi sfidando anche un po come dire l'opinione pubblica e vedete quando era solito questo 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 rapporto quindi come come Luisa a un certo punto possa essersi sentito palladino di di questa cosa qui anche perché magari c'era anche un rapporto più complicato chiamiamolo così di quello che sembra può essere quindi e pensiamo che quel 3 di ottobre si avvicinava il ritorno di 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 Giuliano si avvicinava la resta dei conti e non c'era tempo da perdere quindi c'è c'è stato sicuramente un piano che può anche aver visto Luis come esecutore perché però non credo da solo sicuramente non non può essere lui abbia fatto tutto un piano da solo è seguito da solo e tutto se dovessi pensare ad oggi a un un complice a uno che abbia attuato è Loris anche se fino ad oggi precisiamo che non è indagato non è indagato però voglio dire comunque ci sono sospetti comunque deve essere ancora interrogato non non si esclude che possa essere tirato in ballo quindi vedremo per il momento non è indagato e quindi certamente Loris è sospettato in qualche modo non fosse altro che che per quelle sue frasi che dire infelici frasi è poco perché a parte di dire giustizia divina è stata fatta poi dice qualcuno risolvi i problemi per lei e lei nemmeno se ne accorge ma questo però la della tv non lo dice questo è più importante questo che giustizia divina è stata fatta quindi come dire magari si è fatto questa cosa senza che se ne resta almeno conto Manuela per dire questo però poi si incespica questo lo dice perché uno viene chiamato e lui dice di non aver saputo che era stato ucciso Pierina che era morta ma possibile mai che lui se lo chiamava telefonicamente dicendo è morta Pierina e non dire altro poco probabile poi dice che lui è arrivato lì e sale sopra dopo aver visto polizia carabinieri ambulanza e tu pensi che polizia carabinieri ambulanza vengono perché cosa perché una si è sentita male così gli è venuto un infarto no allora vuoi dire che non sapevi però non sapendo cioè se tu poi non sapevi sali sopra e dice giustizia divina è stata fatta cioè allora non sai che è stato ucciso e dice giustizia divina è stata fatta qualcuno risolve i problemi per lei e lei almeno lo sa non legge purtroppo per me loris non legge da questo punto di vista poi per carità fino ad oggi non è interato però io non lo so al punto di vista logico è così quindi questo omicidio sa tanto di organizzazione perché anche quell'incidente di luis è un incidente anomalo anomalo come se lui dopo quell'incidente avesse una certificazione che magari faceva male il ginocchio che non poteva camminare e poi viene visto camminare bene viene visto zoppicare poi sale e scende le scale anche la mattina dopo c'è un'altra condomina che dice che lui saliva e scendeva a piedi le scale non con l'ascensore quindi questo ginocchio ballerino che non convince come pure il suo fatto che la nipote non era andata con la nonna guarda casa quella sera guarda casa loris va a fare visita a luis passando poi per il garage come prima volta ma lo dice molto dopo prima aveva detto in una trasmissione a ore 14 aveva detto no io sono salito con duilio il papà con duilio con il cane quindi era salito con lui a piedi poi tempo dopo c'è no forse sono andato giù per il garage per la prima volta nella vita mia cioè lui è meglio quando sta zitto veramente è meglio quando si rifugge nel silenzio e lo stesso loris che testa a cena altra cosa che non accadeva mai quindi poi gli alibi gli alibi sono ballerini lui ha un alibi per modo di dire da parte di di valeria ma è un alibi che non regge fino alle 22 e 15 ma poi una valeria che dice no io l'avrei sentito gli ho chiesto se era sceso non lui non può essere stato non sarebbe capace non è il tipo ma che 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 alibi è se è tutto al condizionale non non regge minimamente quindi come pure loris si avvale dell'alibi di chi della sorella però nell'immediatezza la nipote dice alle 22 10 zio loris è scese è andato via poi magari lo rivede dopo dice allora non è scese mi sono sbagliato ma potesse può darsi pure che si sia assentato a volte 5 10 minuti magari pensiamo che è stata bloccata l'ascensore ad esempio pensiamo che l'ascensore è bloccata qualcuno l'aveva bloccata non penso che se loris se lui si ha fatto lui l'omicidio poi bloccava pure l'ascensore c'è anche il fatto che alle 22 28 si sente l'attivazione di nuovo dell'ascensore che sale troppe cose che non non vanno quindi io penso che ci sia una sorta di organizzazione che potrebbe vedere protagonisti sia lui sia loris che le due donne non abbiano saputo è poco probabile oppure c'è la possibilità pure che nell'immediatezza non abbiano saputo e che abbiano saputo dopo che sia stato detto qualcosa dopo e che e che in qualche modo loro vogliono proteggere a tutti i costi chi il fratello che il marito certamente le donne non sono protagoniste al cento per cento di poter aver fatto qualcosa però allo stato non credo possa essere considerata del tutto è strano quindi poi un altro grande problema di questo caso qui qual è è che se il responsabile è luis e magari anche con l'ausilio di loris per dire non ci sarebbero mai aspettate cari amiche mie che si giungesse a tanto perché la progettualità di questo caso qui tu cosa vedi normalmente se non vi fosse stato questo effetto mediatico cosa vedi vedi che nella mattinata viene trovato una signora anziana uccisa uccisa seppur brutalmente a cui è stata strappata la gunna l'intimo così magari potevano pure prendere magari la borsa portafoglio cosa gli anelli per simulare ancora meglio e quindi poi arrivava la polizia arrivano i carabinieri facevano delle piccole indagini diceva va bene voi a quell'ora io ero con mia moglie qua io ero con mia sorella con mia nipote noi vedevamo la tv poi abbiamo fatto le foto poi la stavamo insieme io sono andato via alle 11 tanto è vero che alle 23 ci sono le telecamere che vedono loris che torna a casa sua tranquillo dall'altra parte ci sta un luis che dice no io stavo con mia moglie poi io avevo fatto l'incidente il giorno prima c'ho il certificato medico sono zoppo non riesce nemmeno a mettere il piede attese figuratevi che cosa potevo mai fare di tanto violento perché purtroppo non è andata bene credo che non sia andata bene perché c'è stato l'effetto mediatico che ha fatto in modo che l'attenzione non calasse allora il procuratore pace e tutta la squadra hanno dovuto tessere pazientemente questa tela ma molto pazientemente perché perché chi ha progettato questo magari ovviamente con l'ausilio di di guanti cioè non è che è stato così sproveduto poi pensate che le tracce così si possono pure cancellare avendo avuto tutta la notte di tempo perché dalle 22 e 15 fino alla mattina dopo diciamo non c'è stato nessuno quindi si è potuto intervenire in qualsiasi modo e non è nemmeno tanto strano che non sia sceso nessuno lì è un condominio cioè era un condominio tranquillo abitato anche da gente anziana che non è che alle 11 mezzanotte alle 4 5 di notte si mette a scendere giù ma è possibilissima insomma sta cosa qui e quindi e quindi poi ecco che può essere che sia andata e sia andata così può essere stato così e che i minuti adesso stiano venendo a pettine quindi all'inizio poi e cosa questo progetto cosa cosa prevedeva secondo me prevedeva anche una sorta di accostamento che è stato sempre fatto fra l'incidente avvenuto a giuliano e quello che poi è successo a pierina perché sia manuela sia loro distinto hanno sempre sostenuto questo per dire chi ha fatto del male a giuliano allora chissà sia voluto anche vendicare in qualche modo a parte che ciò non regge perché perché voi ti vendichi dopo mesi non ha senso ma ma è un modo per spostare l'attenzione quindi per spostare l'attenzione su tutto ciò che veniva dall'esterno e secondo me a questo punto invece giuliano ha avuto effettivamente un incidente con con un furgoncino qualcosa del genere e non c'entra niente e quindi anche oggi voler spostare fuori sempre più in modo insomma quasi ridicolo l'attenzione fuori per dire l'uomo venuto da fuori no quella dei costeggiatori bigliettini la violenza sessuale ormai no per me il cerchio si è chiuso l'ho fatto per difendere il suo amico luis il suo amico luis che oggi di vendere l'amicizia ma all'epoca quando quando lui come si dice raccolse il feedback perché perché qua mi hanno cosetto che non si dice fare il feedback o a raccogliere raccogliere il feedback cercare il feedback attendere il feedback me lo dice Franci però voglio dire con tutto il rispetto è giustissimo quello che ha detto però diciamo volte il verbo fare lo si usa in una forma così generica quindi va bene uguale però è più corretto dice ha raccolto diciamo il feedback che comunque non serviva niente ed è poco convincente quindi quindi ecco che i noti sono venuti a pettine dicevo quindi penso che in questi giorni dopo che verranno ascoltati questi altri testimoni sarà il momento cruciale sarà quando toccherà a manuela loris e anche la la figlia di manuela sarà il giorno del giudizio sarà il interrogatorio fiume secondo me più lungo di sempre da dove uscirà una grossa fetta di verità perché poi vedete questo dna su cui si discute tanti dna è un elemento secondario che può dare un match positivo e negativo cambia poco certamente il fatto che la casa di pierina sia ancora chiusa significa che anche lì hanno trovato qualcosa che poi dovranno dovranno comparare sia con loris con lui soprattutto si deve vedere ma il dna vedete è l'estrema razio cioè se il match è positivo come si dice allora come dire quasi la prova provata e scatteranno anche le manette credo ma se non fosse così cioè se non c'è un match positivo se questo dna è solo non so di pierina oppure sconosciuto non so se non dà una risposta adeguata ci sono tanti altri elementi non dimentichiamo che le telecamere ad esempio sono un elemento basilare cioè se davvero le telecamere danno il risultato che luis si vede alle 22 e 20 che esce poi rientra così se veramente lui lui ha sempre dichiarato di non essere mai sceso di non essersi mosso dal divano a quell'ora proprio a quell'ora dovrà dare delle spiegazioni questo elemento indiziaro da solo è una prova da solo costruisce la prova quindi e vedremo delle sorprese sicuramente anche dalla casa di pierina la forse può darsi che qualcuno si sia andato a lavare a cambiare non può essere che una casa sia tenuta otto mesi così sequestrata qualcosa di molto importante c'è siamo alla lista dei culti per me omicidio preparato strutturato in cui sicuramente penso a una responsabilità di luis probabilmente anche di loris con le due donne che in qualche modo o sapevano prima o hanno saputo dopo ma poi è scattato un vincolo di solidarietà questo emerge per il momento poi vedremo quindi per il momento vi ringrazio grazie sempre al grande affetto ma veramente enorme con il quale mi seguite quindi condividete il video dappertutto con gli amici le amiche sui social e grazie buona settimana a tutti un abbraccio a tutti quanti voi grazie